Nella giornata di oggi abbiamo trovato una conclusione positiva per quanto riguarda il pagamento del saldo del vecchio premio di risultato, quindi abbiamo erogato circa 880 euro per quanto riguarda FCA e circa 700 euro per quanto riguarda CNEGE, va a completare il vecchio premio di risultato previsto dal 2015 al 2018 con un'erogazione salariale per quanto riguarda FCA complessivamente che va oltre i 6.700 euro e per quanto riguarda CNEGE oltre i 5.700 euro, quindi un risultato importante nel salario dei lavoratori di FCA e di CNEGE che ci fa dire che quel contratto è stato un contratto positivo perché tra l'altro è un contratto che ha introdotto per la prima volta dopo 15 anni perché nel 2015 erano 15 anni che non si rinnovava un contratto legato all'efficienza all'andamento dell'azienda e quindi un risultato importante. Ora siamo impegnati a un rinnovo di una trattativa, ormai sono quasi 4 mesi perché il contratto è scaduto nel 2018, 4 mesi in cui abbiamo fatto passi in avanti per quanto riguarda le parti normative e anche per alcuni aspetti delle parti economiche come ad esempio il premio legato alla previdenza complementare, il premio legato alla sanità integrativa. Abbiamo un altro elemento da dover definire da qua a lunedì che sono gli aspetti legati al premio di efficienza, quindi il premio che misura l'efficienza di stabilimento e collegato a una quota salariale e soprattutto gli aumenti in paga base. Noi abbiamo chiesto circa il 10% di incremento, l'azienda ci ha dato una disponibilità a discutere di aumenti salariali legati alla paga base, però la quantificazione manca ancora all'appello e quindi questo è un elemento per noi centrale per raggiungere un accordo positivo. Quindi siete soddisfatti comunque di quello che avete ottenuto oggi? Allora oggi sì, siamo soddisfatti perché chiudiamo il vecchio contratto e l'abbiamo chiuso positivamente. Abbiamo fatto passi importanti, ci sono ancora alcune questioni da risolvere, c'è una complicazione rispetto al premio di efficienza per quanto riguarda le posizioni che ha assunto Sienegge, Sienegge ha assunto delle posizioni dal nostro punto di vista assurde, abbiamo chiesto di cambiare questa posizione altrimenti rischiamo che lunedì non facciamo l'accordo, se queste posizioni cambiano da qua a lunedì ci sono buone prospettive che lunedì è il giorno in cui si ratifica il nuovo accordo per i lavoratori di FCA e Sienegge. Se a questo uniamo poi le comunicazioni date dall'amministratore delegato Mali nella giornata di ieri rispetto alla conferma degli investimenti, dei 5 miliardi di investimenti negli stabilimenti italiani è chiaro che abbiamo costruito i presupposti di dare una risposta salariale, di dare una risposta normativa in termini di contratto ma anche e soprattutto di dare una risposta in investimenti e in prospettive future positive per i lavoratori e per gli stabilimenti. E lunedì si arriverà veramente a una conclusione o no? Noi ci speriamo e ci contiamo anche perché la firma determina gli aumenti salariali dal mese successivo e quindi questo è importante perché diversamente i lavoratori rischierebbero di perdere ulteriormente salario.